Questo video è sponsorizzato dal canale Telegram Techers, dove potete trovare le migliori offerte tech del momento dall'elettronica di consumo all'assemblaggio di pc. Link in descrizione. Un paio di giorni fa Giorgio Bonfiglio ha segnalato su Twitter una serie di pratiche elementari ed elementarmente sbagliate che potrebbero risultare in un problema di sicurezza per Fineco Banca. Ora vorrei leggere questo post con voi e analizzare passo passo cosa significa e perché potrebbero esserci dei problemi. La prima cosa che ci fa notare è che l'onbanking di Fineco lascia impostare ai propri utenti una password lunga al massimo 8 caratteri che poi 8 caratteri non sono neanche così tanti per una password considerata sicura. La prima cosa è il minimo sindacale ma dato che ogni anno i calcolatori sono sempre più veloci craccare una password di 8 caratteri diventerà eventualmente un'impresa non così difficile specialmente se seguiamo le loro linee guida per la creazione di una password. Ma questo lo vediamo tra un attimo. Un altro segnale d'allarme con il fatto che limitino la lunghezza della password ad un massimo di 8 caratteri è quello che ha scritto fra parentesi che gli hash hanno una lunghezza consistente. Cosa intendeva quando ha detto ciò? Ebbene normalmente le password degli utenti vengono memorizzate in un database. Quindi immaginate che Fineco Banca abbia una propria tabella con tipo username e password per ogni utente tipo username Mario password ciao 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 però in un database ogni campo deve avere una dimensione fissa e quindi anche questo campo qua così come quest'altro devono avere ad esempio 10 boh sto sparando e 8 caratteri 1 2 3 4 5 6 7 8 ah no questo è troncato ci fermiamo qui non sono poi tanti però lo sanno tutti memorizzare le password degli utenti per la tua piattaforma in chiaro all'interno del database è una cosa che non dovresti fare mai perché se subisci un attacco informatico e il tuo database viene esposto pubblicamente anche le password degli utenti sono direttamente esposte pubblicamente. Il minimo che dovresti fare sarebbe memorizzare queste password come degli hash ovvero invece che salvare nel tuo database questa cosa qui ti calcoli un hash md5 md5 sum di questa stringa e ottieni questa stringona qua perfetto chiaramente i campi del tuo database possono essere ancora a dimensione fissa però devono essere di questa dimensione qua perché? perché in realtà qualunque sia la lunghezza della password più corta o più lunga come vedete la lunghezza dell'md5 risultante è sempre uguale, è costante questo vale in generale per qualunque hash chiaramente da questa stringa viene difficile risalire a qual era la password originale cioè questa qui quindi memorizzando nel tuo database gli hash delle password degli utenti almeno ti assicuri che in caso di attacco informatico le password utilizzate dai tuoi utenti non vengano esposte pubblicamente anche se poi in realtà potrebbe ancora non essere sufficiente comunque è già un inizio ripeto questo è il minimo e il fatto che il portale di questa banca limiti la lunghezza della password dei propri utenti fa proprio pensare al fatto che memorizzino la password in chiaro su un campo grande otto caratteri e per questa ragione la password non deve sforarli perché se avessero le password memorizzate in formato hash non sarebbe importante quanto è lunga la password dell'utente tanto l'hash sarebbe sempre lungo uguale ai fini del database non è un problema meno male che il loro database è a prova di hacker giusto? infatti riporta i nostri database dove i dati dei clienti e le informazioni sono memorizzati sono completamente protetti da ogni attacco esterno qualunque cosa questo significhi comunque andiamo avanti il secondo problema sono le linee guida per le password infatti suggeriscono di googolare la tua password per assicurarti che sia unica vediamo meglio cosa c'è scritto insiriscila su google se ti restituisce meno di 10 risultati significa che è una buona password cosa? cioè se io google ho la mia password penso che dovrai trovare zero risultati non meno di 10 per considerarla sicura ma poi anche se fosse googolare la propria password non è un metodo efficace per scoprire se in generale questa password esiste da qualche parte ed è in un qualche database a questo scopo ci sono strumenti apposta come have i been.pvned che non solo ti fornisce un servizio in cui se metti dentro il tuo indirizzo email puoi vedere tutti i siti che sono stati bucati negli anni e hanno esposto la username o la password o entrambe le cose pubblicamente ma c'è anche una sezione dedicata proprio alle password in cui scrivo tipo non lo so ciao 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 e scopro se effettivamente Effettivamente questa password OPS è stata vista 1966 volte. Oppure posso inserire una password completamente casuale e vedere che, ok, non è stata trovata da nessuna parte in nessun leak e nessun dump di database di altri siti hackerati. Però no, loro ti consigliano di usare Google. Ok. E la terza cosa che volevo evidenziare è le linee guida per la creazione della password. Qui prendono colore e ci mettono dei 5 e mezzo, così. Qui prendono nel mezzo del cammino e prendono la prima lettera di ogni parola. E anche se l'idea sarebbe corretta, combina lettere con numeri e termina la lettera con una maiuscola, detto così è un pattern un po' ripetitivo, sempre che l'ultima lettera sia una maiuscola, che ci siano dei numeri. Specialmente se consigli alla gente di usare delle parole di dizionario. Quello che forse non sapevano è che in realtà ci sono già precompilati una sfilza di gigabyte o di terabyte, anzi di dizionari, proprio fatti con le parole di dizionario mixate ai numeri in questa maniera qui, come suggeriscono loro per creare una password sicura. E poi fra l'altro adesso seguiamo il loro consiglio, colo55RE. Ok. Primo risultato non è neanche quello della Fineco Banca, ma è di Vincenzo Cuomo. Che indovinate chi è? Fineco Personal Studio Ischia, dottor Vincenzo Cuomo, Financial Advisor di Fineco Bank. Se ci mettiamo a scorrere questa pagina di questo sito, notate qualche somiglianza per caso? Ok. È una parola intervallata da due cifre e termina con una lettera maiuscola. Combina una lettera con E e una lettera maiuscola. La password che ne risulta è di 8 caratteri difficili da indovinare da parte di estranei. La password che risulta è di 8 caratteri difficili da indovinare da parte di estranei. E qui c'è il secondo esempio, uguale identico. Insomma, sostanzialmente questa dicitura è stata copy-incollata dal suo blog. Tutto normale? Comunque 16 settembre 2013 è questo stato copy-incollato. Wow, sul sito. Ah, e un'altra finezza a cui dovete fare attenzione è che la gente normalmente non ha la sbatta di crearsi nuove password tutte proprie. Quindi è del tutto plausibile che un utente medio, quello che vada a fare quando legge questa dicitura, è copiare la password esempio e usarla come propria password. Sarei più stupito del contrario se non ci fosse nessun utente tra i loro iscritti che utilizza effettivamente una di queste due password suggerite. Specialmente perché, come fa notare anche Giorgio, non sono generate casualmente per ciascuno. Sono semplicemente una dicitura standard che si trovano tutti gli utenti in fase di iscrizione. C'è un'altra dicitura divertente che se non hai un'email puoi inviare il modulo completo di firma al customer care via fax o via indirizzo email. Seriously? Ah, e la cosa inquietante è che se vuoi resettare la tua password, oltre al fatto che devi pagare, questa ti viene inviata con posta prioritaria al tuo domicilio. Cioè, fatemi capire, se sono all'estero o in viaggio da qualche parte, non ricordo più la password, me la mandate al mio domicilio. In ogni caso, anche se sono a casa mia, devo aspettare almeno due giorni lavorativi perché venga recapitata con la posta prioritaria. Probabilmente hanno pensato che fosse parecchio figo mandare la password su un altro mezzo di comunicazione. Poi vabbè, adesso è obbligatorio l'autenticazione a due fattori, quindi dopo aver azzeccato la password, serve anche un codice monouso mandato per sms o tramite token. Quindi se non altro, in parte ci si mette una pezza. Diciamo che se siete clienti Fineco e vi vedete arrivare un codice OTP via sms per fare l'accesso, mentre non state cercando di fare l'accesso ma state facendo tutt'altro, qualcuno potrebbe aver scoperto la vostra password. Comunque materialmente non si tratta di un security breach avvenuto o qualcosa del genere. Sono solo una serie di bad practice poco incoraggianti dal punto di vista della sicurezza. E ci aspettiamo sempre che strutture critiche come le banche, che detengono tutto il nostro patrimonio, avendo fondi pressoché limitati, investano seriamente sulla sicurezza delle infrastrutture, anche informatiche, e che abbiano un sistema perfetto, infallibile, sicurissimo, almeno tanto sicuro quanto lo è il volt di una banca. Ma la verità è che queste cose ci riportano sul pianeta Terra e ci ricordano che, in Italia, la sicurezza informatica è parecchio presa sotto gamba. Anche da chi non avrebbe problemi ad assumere le persone giuste per fare un lavoro non buono, ma a regola d'arte. E detto questo speriamo che Fineco prenda in considerazione questo post e si adegui ai moderni standard di sicurezza. Prima che qualcosa vada storto, piuttosto che dopo, come spesso accade. Ah, e se foste interessati, vi ricordo che sul mio sito, nella sezione LPI, trovate una serie di ottimi corsi Linux per tutti i livelli. Alla prossima! Alla prossima!